Da mercoledì 1 a venerdì 3 agosto le associazioni Briganti dell'Ermice e Ievolo Vico Vico, in collaborazione con il comune di Eboli, presentano la quarta edizione delle Notti dell'Ermice. L'evento si terrà presso l'area naturale dell'Ermice, con visite notturna accompagnate dai racconti e misteri dell'Ermice a cura della compagnia Ewalyun e Porta Ruana. Novità dell'edizione 2018 è l'evento Le Notti Young presso il convento di San Pietro a Limarmi, con gastronomia, postazione cocktail a cura di Gatsby e musica con il DJ set di Danny La Salvia e Emanuele Altieri. Il comune ha anche garantito il servizio navetta gratuito, che dalle ore 19 partirà da piazza Tito Flavio Silvano.